Salvatore D'Augello, portiere ma presidente della Mezzia Termina, la seconda stagione una peculiarità della vostra squadra, non mollate mai? Sì, assolutamente, è nel DNA dei calabresi il fatto di non mollare mai, la volontà, la grinta e l'abnegazione sono comunque la nostra forza, ci siamo, ci vogliamo essere e speriamo di far bene, i risultati poi sarà il campo a darci ragione o meno. Intanto aver oggi lottato e tenuto per quasi due tempi contro il Catania, finalista di Coppa Italia quest'anno, squadra importante dello scenario nazionale e non solo, fatta di grossi campioni, fenomeni, anche ragazzi dei altri nazionali, vuol dire che cerchiamo di sapere stare in campo. Non solo lotta sulla sabbia, non solo calcio sulla spiaggia ma anche iniziative di solidarietà, diccelo, voi avete un luogo importante sulla maglia. Sì, noi cerchiamo di giocare su più fronti, stiamo giocando anche una importante partita di solidarietà, siamo vicini all'AIC, l'Associazione Italiana per la Cediachia, nella campagna di sensibilizzazione AFC, alimentazione fuori casa per gli intolleranti al glutine. E' una nostra volontà questa di essere vicino a tutto il direttivo regionale perché vogliamo trasmettere anche con la nostra presenza sui vari campi e quindi in una disciplina completamente diversa che siamo vicini a loro. L'intolleranza al glutine, la cediachia è un morbo che ultimamente si sta diffondendo a macchia d'olio, quindi nel nostro piccolo vogliamo dare un segno tangibile e un piccolo contributo. L'intolleranza al glutine, la cediachia è un'ottima, la cediachia è un'ottima.